Se vuoi lavorare un impasto a mano, inizia spargendo un po' di farina sulla superficie che utilizzerai, in modo che non si attacchi. Poi, lavoralo con le mani e trasformalo in una palla. Quando ti accorgi che non si rompe e non forma più delle crepe, inizia a premerlo con il palmo facendo un movimento in avanti. Dopo qualche minuto, piega l'impasto a metà, spingilo in avanti con il palmo e ripeti. Continua per una decina di minuti finché l'impasto non è liscio e mantiene la propria forma se lo prendi e lo lasci cadere sul ripiano di lavoro.